Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo in avaria si registrano due chilometri di coda tra Firenze Sud e Valdarno in direzione Roma. A causa del traffico intenso invece rallentamenti tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino sempre in direzione Roma e in direzione Bologna tra Firenze Imprunete e Firenze Scandicci e tra Calenzano Sesto Fiorentino e il Vivio con la variante del Balico. Sulla statale Trebis Tiberina si ricorda che a causa di lavori sono chiusi gli svincoli di Val Savignone e Sansepolcro Sud in direzione Ravenna. Viabilità della città di Firenze a causa di uno scavo urgente chiusa momentaneamente via Emidio Spinucci con disagio alla circolazione. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!